55 miliardi per proteggere imprese, famiglie e lavoratori dai danni del coronavirus. Nella maxi manovra confermati gli interventi più importanti, fondi alla protezione civile, alla sanità, al rinnovo di tutti gli ammortizzatori sociali, con l'accelerazione della CIG e il bonus autonomi che arriverà in automatico. E ancora un bonus per colfe badanti ed uno strumento ad hoc, il reddito di emergenza per le famiglie più in difficoltà. Ma entriamo nel dettaglio dei provvedimenti. Tempi più rapidi per la CIG e soprattutto per quella in deroga che non passerà più dalle regioni ma direttamente dall'Inps. L'istituto in 15 giorni dalla domanda erogherà un anticipo del 40% dell'assegno. Ammonta a 600 euro l'indennità per gli autonomi del mese di aprile, mentre la terza mensilità salirà a 1000 ma per i più danneggiati. Provvedimenti anche per le famiglie. I giorni di congedo speciale al 50% passano da 15 a 30 che si potranno chiedere però fino a fine luglio. Radduppia anche il bonus babysitter che si potrà usare anche per pagare i centri stili. Le famiglie con redditi fino a 36 mila euro avranno anche un'ulteriore detrazione di 300 euro. I genitori potranno anche chiedere di proseguire con lo smart working a patto però che a casa non ci siano mamma o papà o perché non lavorano o perché beneficiari di sostegni al reddito. Fondi anche per le scuole. Un miliardo e mezzo tra lavori di ristrutturazione degli edifici scolastici e stabilizzazione di 16 mila insegnanti. Risorse pure per la pulizia delle aule e i dispositivi di protezione per docenti e studenti che torneranno in classe per la maturità. 1,4 miliardi per le università. Settore turismo uno dei più colpiti dagli effetti collaterali del covid. Le misure vanno dallo stop alla prima rata IMU per alberghi, ostelli, B&B, stabilimenti balneari, terme e campeggi al tax credit. Per chi sceglierà le vacanze in Italia un buono fino a 500 euro per le famiglie con ISEE fino a 40 mila euro da spendere in parte nelle strutture ricettive e in parte da scontare dalle tasse. Per aiutare bar e ristoranti a rispettare le distanze anticontagio sospesa anche la tassa sull'occupazione aggiuntiva del suolo pubblico per i tavolini all'aperto. 100 milioni ai comuni per coprire il mancato gettito derivante dalla tassa di soggiorno. Capitolo imprese aiuti in base ai ricavi. Quasi tutte, con l'esclusione di quelle sopra i 250 milioni di ricavi, meno di mille imprese non dovranno pagare a giugno la rata IRAP. La cancellazione vale circa 4 miliardi che si aggiungono ai circa 6 per i ristori a fondo perduto sotto i 5 milioni. Per le imprese più piccole previsti sconti sulle bollette ed il credito d'imposta sugli affitti al 60%. Per le aziende di medie dimensioni, tra i 5 e i 50 milioni, ci sarà un mix di incentivi fiscali agli aumenti di capitale e la possibilità di un intervento di Invitalia con un nuovo fondo patrimonio PMI. Incentive ai privati che investono in aziende danneggiate dal Covid. Per le imprese sopra i 50 milioni, previsto invece l'intervento di cassa, depositi e prestiti per la ricapitalizzazione. Nello Stato, le parole del Ministro Gualtieri, non vuole la governance delle imprese ma aiutarle ad essere più forti. Infine, gli incentivi green, 500 euro per bici e monopattini, rafforzamento di ecobonus e sismabonus e rimborsi degli abbonamenti ai mezzi pubblici e fondi per le aziende del trasporto locale. Grazie. 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 Grazie.